La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nel corso dei due distinti interventi, oltre 12.400 articoli contraffatti e denunciato per contraffazione e ricettazione due soggetti, un 48enne e una 55enne, entrambi napoletani. In particolare, nel corso di un primo intervento, i Baschi Verdi hanno individuato nel quartiere Miano uno stand nel centro commerciale La Birreria, all'interno del quale erano esposti più di 2.200 articoli con marchi contraffatti. Tra i prodotti rinvenuti, numerosi accessori per bambini, tutti collochi contraffatti dei più noti personaggi dei cartoni animati. Sono state inoltre sottoposte al sequestro mascherine facciali, destinate ai più piccoli, anche esse non a norma dal punto di vista sanitario e collochi di noti marchi contraffatti. In una seconda operazione, gli stessi finanzieri, dopo aver notato una donna che, con fare sospetto, era uscita da un magazzino del centro storico, hanno proceduto ad un più accurato controllo, dal quale è emerso che la stessa trasportava borse con marchi contraffatti. La successiva perquisizione del locale risultato nella sua disponibilità e dal quale poco prima aveva ritirato la donna ai sacchi, ha poi permesso di scoprire un vero e proprio opificio abusivo, destinato alla produzione, lavorazione e al confezionamento di articoli contraffatti. Al suo interno sequestrati oltre 200 metri quadri di pellami contraffatti, tessuti, borche, zip, moschettoni, etichette, nonché centinaia di borse e borselli pronti per essere messi in vendita. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS